Dopo quasi un anno, nell'inventità delle schede video, abbiamo solamente sguazzato. Ora è arrivato il momento di nuotare. Buon salve, buon salve a tutti signori e bentornati qui su Rama95 YouTube, l'unico canale tech dove si pare di cruci in maniera strana o alternativa. Bentornati a tutti e buon salve a tutti. Quest'oggi parliamo di un competitor che si è dato da fare veramente tanto per farci apprezzare il suo prodotto e che oggi è diventata quella soluzione che in certe target price è diventata veramente appetibile e quest'anno è pronta a fare il nuovo passo con una nuova generazione. Mi raccomando che se ti piacciono questi contenuti di iscriverti al canale, attivare la campanina con tutte le notifiche e poi ovviamente qui sotto, in cui solito, vedete tutti gli altri social tra cui appunto anche TikTok dove ultimamente sto spingendo un pochino di più visto che sembra che è divertente fare TikTok. Poi ovviamente parlando un attimo del lato live volevo appunto fare una piccola paratisi, poi procediamo nel video, ovvero che ultimamente le live mi è un po' difficile farle però cerco il più possibile di farle. Non è facile perché giustamente una live sono almeno 3-4 ore di tempo bloccato in cui non posso fare nient'altro, quindi giustamente uno cerca di far incastrare bene sia vita lavorativa che vita vibrata che live e quant'altro. Comunque, le live ho deciso di scenderle, di dividerle in due categorie, ovvero una su YouTube, rimarranno live di natura tech, quindi reaction, test, video, quant'altro, eh, su YouTube. Tutto ciò invece che è gameplay, eventi speciali, micro-maratone, perché sì, potrebbero tornare dai micro-maratoni quest'anno, tutto sul canale Viola. Comunque, ciò non ce le mande, torniamo a noi. Ovviamente stiamo parlando di Intel Arc e del percorso che ha fatto Alchemist in questo ultimo anno, anno e tre, anno e un quarto più o meno, che è sempre stato un anno, penso che, in salita migliorativa. Siamo partiti praticamente da schede video che, sì, obiettivo, contrastare la 30-60, obiettivo più che raggiunto già al day one, problemi driver, molti, hanno causato un sacco di ritardi nel lancio delle schede video, però, effettivamente, se dovessimo fare un'analisi da un anno a ora, effettivamente, Alchemist non ha fatto altro che migliorare di mese in mese. E oggi, praticamente, con una line-up che parte dalla Intel Arc A310 fino alla Intel Arc A770, effettivamente, si tratta di una fascia di schede video che va dai circa 100€ ai 350, più o meno, che è di tutto rispetto e che è in grado di offrire delle valide alternative sia per quanto riguarda Nvidia, sia per quanto riguarda AMD. Oggi, come ambasciatore di Intel Alchemist, ho qui con me una Intel Arc A580 Orc. Non è una bestemmia, ma è Orc. Potrebbe essere parente di Shrek. Naturalmente! Davvero? No. E ad oggi questa scheda, ultimamente, ha fatto parlare tanto di sé perché è diventata la miglior scheda video under 200€ con prestazioni similare all'X6600, ciò che, tipo, 7-8 mesi fa non era neanche pensabile. Bene, oggi, praticamente, questa scheda l'acquisti circa sulle 170-195€, più o meno, come fascia di acquisto, e offre prestazioni, appunto, simili all'RX6600. Altre caratteristiche che hanno l'Intel Arc Alchemist per ora è avere, comunque, una gestione di retracing migliore rispetto a quella di AMD, ma non, certamente, migliore rispetto a quella di Nvidia. Avere un sistema di upscaling, in questo caso si chiama XSS, che ha una via di mezzo tra AMD e Nvidia. Anche qui, ovviamente, abbiamo una qualità dell'immagine che è migliore che quella di AMD, magari non a livelli di Nvidia, ed è open source, sostanzialmente. Quindi, sì, può essere digerita da chiunque. L'altra caratteristica era che, rispetto alle controparti, soprattutto AMD, Nvidia e Intel Arc ha sempre avuto delle ottime performance per quanto riguarda la produttività, soprattutto la content creation. Quindi, queste GPU sono diventate, in questo anno, un must-have per una categoria specifica di sia giocatori, ma anche professionisti. Ovviamente, questa cosa ha un po' anche spaccato un po' il pubblico, perché c'è chi era un po' dubitante, c'è chi, magari, anti-fanboy Intel, non le ha mai prese in concessione in quanto Intel è cattiva, Sì, perché purtroppo esistono anche queste. Esiste sia chi è anti-Intel, chi è anti-NVIDIA, chi è anti-MD, eh sì, esatto. Quindi, c'è chi è per partito preso e decide che queste schede non devono mai essere acquistate e non dovrebbero mai aver visto la luce. Però, in questo momento, sono entrate, hanno un pochino rimescolato le carte e attualmente, nel mercato della fascia bassa, medio-bassa, sono diventate quasi un must-have e una valida alternativa da prendere in considerazione. E da queste caratteristiche, da questo a base in cui, praticamente, ormai, oggi, Intel Alchemist riesce a gestire benissimo tutti i titoli da RTX 11, più o meno, la maggior parte di essi hanno avuto una miglioria rispetto al Day One, siamo praticamente su un altro pianeta. Con queste basi ci accingiamo a prendere il percorso a entrare nella strada nuova della nuova generazione con Battle Image. E andiamo a vedere, effettivamente, cosa Battle Image ci andrà a proporre, ovviamente, in quest'anno, con un'uscita prevista più o meno dalla seconda metà di quest'anno in poi, magari, insomma, più o meno, questo è il target di Lush, già vi dico subito che, appunto, più o meno dovrebbe essere un rilascio intorno, penso, settembre, ottobre, novembre con una presentazione magari da giugno in poi con qualche presentazione per giugno, eh, e poi un rilascio graduale da lì a seguire. Allora, tutto quello che sappiamo di Battle Image è che sicuramente non avremo a che fare con una serie 90 killer, ovvero, Intel non ha alcuna intenzione di andare a combattere con un eventuale 40-90 attuale o un eventuale 50-90 futura. Quindi, scordatevi se qualcuno di voi aveva l'intenzione di sperare che Intel andasse ad attaccare Nvidia su quella fascia top di gamma, no. È una fascia inarrivabile, stracostosa e probabilmente anche azzardante. In questo momento la scheda video più potente consumer rimarrà la serie 90 di Nvidia e lo sarà così, secondo me, però ancora un bel po' di tempo. Detto questo, ovviamente, dobbiamo capire quale sarà il punto di approccio di Intel sul mondo delle schede video con la sua seconda generazione. Beh, a quanto pare da quello che sembra le nuove schede video la top di gamma rientrerà in un TDP che non supererà i 225 Watt quindi si tratterà di una scheda video che molto probabilmente andrà a combattere con quello che noi oggi consideriamo la serie 800 di AMD e la serie 70 di Nvidia. Quindi, si tratta di una scheda video di fascia alta che, onestamente, per quanto possa far storgere il naso non è niente di diverso da ciò che fece AMD con RDNA1 quando uscì la serie 5000 la top di gamma era la 5700 XT che alla fine della fiera andava a combattere con la 2070 barra 2070 Super e non era una cattiva scelta alla fine sapevi benissimo che la 2080 Ti era inarrivabile nemmeno la Radeon 7 ci pensava ad attaccarla bene, hai giocato in maniera ribasso e comunque non è stata una cattiva serie alla fine comunque in quella fascia di combattimento che andava dai 300 ai 450 euro effettivamente è stata una bella battaglia molto combattuta nonostante tu non offrivi retracing mentre invece la controparte Nvidia si in questo caso ovviamente è diverso perché tutte utilizzeranno retracing tutte utilizzeranno l'appscaler ovviamente Nvidia ha il suo DLSS ormai 3.7 AMD può sfruttare il suo FSR e Intel appreterà con una sua versione aggiornata dell'XSS ovviamente la cosa che manca a Intel attualmente che sia Nvidia che AMD hanno ovviamente è un frame generation ma tranquilli arriverà anche quello insieme al nuovo XSS dovrebbe venire integrato ma anche con le nuove schede video battery image anche un loro frame generation ovviamente che dovrebbe essere anche quello come gli XSS una via di mezzo tra le due soluzioni di AMD e di Nvidia quindi una soluzione che è qualitativamente parlando migliore di AMD ma alla fine della fila rimane open source questa cosa ovviamente poi dobbiamo anche pensarla in un'ottica di miglioria perché comunque sicuramente la prossima generazione di Intel sarà tutta basata sui nuovi processori Intel Ultra quindi anche lì con nuovi processori anche un po' più un po' più spinti un po' più tecnologicamente evoluti un nuovo passo in avanti con una nuova serie di processori con i nuovi Ultra i-Core quindi quelli ancora più efficienti a livello energetico con ancora più implementazione della parte di intelligenza artificiale quindi con il coprocessore di intelligenza artificiale quindi sicuramente Battle Image integrerà ancora di più quello che già attualmente è di utilizzo abbastanza comune sui nuovi portatili Intel Ultra tornando alle schede video ovviamente Battle Image presumibilmente manterrà comunque il suo appeal lato prezzi diventando comunque magari la spina nel fianco di entrambe proponendo una soluzione parliamoci chiaro dovesse uscire una versione come la 4070 Super ok che altrimenti sta a circa 650 euro più o meno prezzo medio ma costando magari sulle 600 euro 580 con 16 giga di RAM e con tutti i vantaggi che ha Intel Arc sul lato del memory bassa e memory bandwidth ovviamente a discapito di un'efficienza energetica magari un po' più bassa si diventerebbe un'ottima soluzione soprattutto per chi ovviamente cerca qualcosa di economico ma vuole fare comunque un ottimo computer un'ottima build per la content creation che è quello praticamente è il poter lavorare in sincorrino con una eGPU Intel per sfruttare il deep link e fare della content creation o comunque di sfruttare il deep link per avere il massimo delle prestazioni di queste GPU ma anche in game ovviamente non solo content creation ma anche in game c'è anche lì un leggero guadagno non credo che Intel utilizzerà o comunque farà uso degli standard di alimentazione nuovi di Nvidia ATX 3.0 credo che rimarrà come AMD sullo standard di alimentazione classico PCI Express che alla fine è più una questione di scelta più che una questione di necessità magari appunto anche in virtù del mantenere il costo un po' più contenuto e sicuramente anche per rimanere abbastanza appetitosa e con i confronti di chi magari non vuole cambiare l'alimentatore in favore di un ATX 3.0 o non gli piace avere quel matassone di cavi per la datatora ATX 3.0 però secondo me è più una scelta di costi più che una scelta di praticità di cavo e adesso non ci resta che aspettare i prossimi se vedere effettivamente poi con il lancio ufficiale con la presentazione ufficiale di cosa Intel vorrà mettere a disposizione per noi comuni mortali e vedere se effettivamente potrebbe essere l'alba di una nuova battaglia magari nella fascia principale delle schede video perché qui si parla più che altro di una fascia principale magari con schede video appunto noi parliamo della top di gamma che potrebbe arrivare a livelli di una serie 70 ma potremmo anche parlare anche di schede video di fascia un po' più media per quanto riguarda Intel che anche lì magari ti esce delle schede delle GPU che possono anche lì andare a combattere con la 60 Ti la 60 magari essere anche più avere un rapporto euro prestazioni più interessante battagliare anche con MD a livello poi di costi diciamo che effettivamente se la top è in questa posizione e se si mantiene interessante come lo è stato con Alchemist si si prospetta una bella battaglia generazionale per praticamente dalla fine di quest'anno per l'ultimo quarto di quest'anno fino a poi a che non il mercato non si stabilizzerà signori fatemi sapere sotto nei commenti se voi avete una Intel Arc come la usate e perché l'avete acquistata e fatemi sapere anche se nel caso siete interessati all'acquisto delle nuove Battle Image e siete curiosi anche voi e sperate anche voi in una battaglia un po' più agguerrita con un terzo competitor che effettivamente è bello big ovviamente tutte queste schede video l'Intel Arc le trovate anche sul nostro canale Telegram HWO dove potete lì approfittare di appunto di acquistare una Intel Arc a prezzi veramente regalati questa l'abbiamo postata una volta a 166 euro tipo da ebay ed è praticamente una must per giocare in full HD è perfetta ma anche per chi vuole fare un pc per video editing foto di tocchi produttività generale economico sì perfetto ci metti questo 12.004 e hai fatto un pc stratop per lavorare e non solo mi raccomando ragazzi vi ricordo iscrivetevi al canale attivate la campanella notifiche e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao